A un certo punto però bisogna cominciare a vivere, anzi a rivivere, a dare un senso a questa seconda nuova possibilità. Da questo punto di vista molto fanno gli uffici di pastorale migranti che supportano gli stranieri nei tanti, a volte troppi mesi che li separano dal giudizio della commissione. Ricominciare a vivere è un'esperienza che non è esente da costi e da rischi, ma nonostante questo non contano le possibilità economiche o le condizioni sociali. Se c'è una possibilità per vivere allora partono tutti.